ciao ragazzi bentornati in questo video dopo aver fatto il video di quello che c'è nel mio socio e mi posto all'unibili oggi sono persone di me per fare questo qua questo qua il mio corpo allora il mio corpo uso diversi balsami diversi sciampi ma anche gel e gel sono una cosa più importante per me ma anche i saponi come ad esempio che è questo qua che potete trovare in tutti i supermercati ma anche nelle farmacie che è spuma di champagne della beauty sapone crema e sia crema che sapone ve lo consiglio tantissimo perché è così grande però te basta venanno questo qua non è ancora scaluto è ancora buono perché questo qua questo qua l'ho occupato nel 2016 però ora è oggi è 8 agrile non mi ricordo dove era in qualche modo scade a un punto scade il 27 agosto 2019 bellissimo ve lo consiglio davvero tanto è buonissimo quindi ve lo consiglio al 100% iniziamo diciamo con questo iniziamo con lo shampoo principale lo shampoo principale è questo qui che non mi ricordo se è per i pedocchi comunque mi pare mi pare che per i pedocchi no perché in classe nella nostra scuola ci sono i pedocchi spesso ci sono spesso i pedocchi allora devo comprare ancora lo spray quindi faccio ogni giorno lo shampoo con questo shampoo ideale che vi consiglio anche a voi se nella vostra scuola ci sono i pedocchi mi raccomando fatelo tutti i giorni se vedete il water facetelo 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 fatelo tutti i giorni questo qua perché è davvero importante visto che i pedocchi ci sono in tutto il mondo poi uso lo shampoo diciamo prima gli shampoo uso questo shampoo 3 action formula dell'header shoulders questo qua 2 in 1 anti caduta quindi qualche volta se ne cadono quando uso parecchi shampoo che ne mischio quindi per un po' di tempo uso questi qua prima faccio il lavaggio con questo qua e poi mi lavo con lo shampoo normale quindi è the shoulders anche anti caduta molto importante per la caduta dei capelli che non farà formare di certo ma guarda se è per l'anti caduta normale lo farà più formare però io dico una cosa si lo rimetto a posto l'altro shampoo è l'altro shampoo l'altro shampoo appunto è questo qua della Vida shampoo inutile di legge capelli secchi o capelli appunto secchi o danneggiati shampoo vital 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 come dice con ceramide complita lattidi avena nutrimento e leggente le lucente è buono è buono lo dico però dopo un po' come dire è un po' scomodo ciao fuck cute poi abbiamo questa qui questa qui è questa qui è dopo il mare che io faccio sempre mi lavo sempre con questa qua questa qua è una crema non è neunce un po' niente e una crema però mi lavo nel mondo perché non è stare cosa ha fatto con la crema pietola per il mare si lo so comunque questa qua gel cage no dell'issolars so il solars ragazzi li chiamiamo pure lui adesso abbiamo i balsami specialmente io ne ho uno di gel che è per i capelli però io uso anche per un attimo solo devo salire qua sopra vabbè pio pia c'è come devo fare stasera ragazzi sono le 10 io so non vorrei fare un video a quest'ora ma mi piace voglio fare video a questo a me specialmente questo qua muovine guardate subito perché io devo mettere a posto ok poi passiamo a questo che è la malizia bagno schiuma questa qua crema di latte milk cream crema di latte bagno schiuma la borbida schiuma che lavastimola questo qua prodotto cosmetic cosmetic product come lo vorrei dire ma vuoi ah io ho gli altri qua però me ne raccolta guardate che bagno schiuma oh dio che ne raccoli c'è stata un altro io ho la spugna dove ho messo poi c'ho questo qua che è how tonight orchid bellissimo buon profumo e questo qua che è la umbrella di cedro o cedrato altri che sono gli ultimi uno è questo che è cotone e muschio bianco vellutante batch show gel l'angelica innanzitutto elboristico che appunto è batch e show gel questo qua che è di un colore bianco e odore stupendo stupendo allora ci sono alcuni che hanno un odore stupendo altri no però e l'ultimo è questo qua latte d'asina latte d'asina latte d'asina come questo qua che color è non mi ricordo più questi qua di questa marca sono tutti uguali dell'angelica un crudore buono quindi questi qua sono quelli che concludono io ho finito quindi metto questo pesce voglio farvi vedere anche la mia spugna se la do ho fatto la spugna comunque io vi mando un saluto e i baci baci stellari si guarda i ramarini ciao 3 2 3 2 1 un saluto Grazie.